Ieri delle tante folk romagnole entrando in pista per noi i grandissimi maestri Walter Baldazzi e Nives Grassi, accogliamoli con un fortissimo applauso. Walter, tutti i cui spalla direttamente dalla Valle di Sant'Anastasio perché non lo ballano solo Rimini ma lo balliamo anche in montagna e come lo balliamo in montagna. Walter, faglielo vedere, prendi la Tonives e ballaci questo magico balser. Grazie a tutti. 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 Eccoli qua, Walter Baldazzi e Nives Grassi, un fortissimo applauso per loro. Eccoli qua i nostri due grandi maestri. Eccoli qua i nostri due grandi maestri. Eccoli qua i nostri due grandi maestri. Eccoli qua i nostri due grandi maestri.